Siamo pronti, siamo a Genova per il CICO 2018, quattro giorni di regate da domani, qui tra Lido di Albaro e la Diga Forane, una bella manifestazione. Sì, una bella manifestazione, una location perfetta, credo che la struttura del salone nautico e dei saloni nautici sia una struttura perfetta per poter organizzare questi eventi, si presta molto bene, siamo qui dentro, credo che è una delle prime volte che tutte le barche possono essere al coperto o addirittura armate, quindi credo che sia un passaggio fondamentale per dare anche lustro e qualità a questa che è una manifestazione che noi tutti vorremmo rilanciare, e volemmo che veramente fosse il top della manifestazione in Italia, quindi credo che questa location dia già un grande aiuto e poi gli atleti sicuramente faranno la loro parte. Ecco, prima volta in 25 anni a Genova, sede della Federazione Italiana Vela, quindi forse per la FIVA ha un'importanza ancora più grande quest'anno. Sicuramente erano degli anni che si cercava di venire a Genova, poi la cosa non si è concretizzata, quest'anno siamo veramente felici di poter venire qui, il parco degli atleti mi sembra di assoluto livello, ci sono anche degli atleti stranieri ed era uno degli obiettivi quello di aprire e far diventare questa manifestazione anche un po' internazionale, quindi credo che ci siano tutte le condizioni, speriamo nel tempo, ma quello sarà un elemento secondario sicuramente su cui ognuno non potrà far nulla.